Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. La Fepilì in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra Empoli, Ovest e San Miniato in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monte Rigioni e Badesse in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!